Assessore Claudio Cataruzza, 26esima edizione del concorso internazionale Città di Porcia, che vede però da sempre il Comune di Pordenone vicino a questo concorso. Credo che questa sia un'occasione estremamente importante, un concorso internazionale che è andato via più assumendo una grande rilevanza, per cui è una soddisfazione, non credo non soltanto per la cittadinanza di Porcia, anche per quella di Pordenone, veder valorizzato il lavoro di questi artisti nella splendida cornice del Teatro Verdi. Prenderà il via lunedì 9 novembre il 26esimo concorso internazionale Città di Porcia, dedicato quest'anno al trombone. Le prime tre prove di selezione, eliminatoria, semifinale e finale, si svolgeranno presso la Fiera di Pordenone, ingresso libro, tutti coloro che vogliono partecipare sono invitati. La quarta prova, la prova con l'orchestra, verrà affettuata al Teatro Verdi di Pordenone, sabato 14 novembre. Alle ore 20 e 45. La particolarità di quest'anno, 44 concorrenti provenienti da tutto il mondo, un australiano, un cinese, un giapponese, tantissimi gli europei. Una giuria di grande rilievo come sempre, basti pensare che i quattro settimi della giuria erano commissari al prestigiosissimo concorso LARD di Monaco. Il concorso ha come patterns progettuale il Teatro Verdi di Pordenone, grazie per cui voglio ringraziare qui il maestro Baglini come direttore e anche il presidente Lessio e tutto il consiglio che hanno accolto questa proposta del maestro Baglini di inserire la serata finale del concorso nella stagione sinfonica del teatro. E questo è un riconoscimento che personalmente a me e a tutta la nostra associazione dà grande soddisfazione perché è un riconoscimento molto importante.